ciao e ciao e benvenuto oggi parliamo dei tre tipi di storage il das il nas e il san e infine un accenno a vmware perché sul gruppo di telegram ci sono degli utenti che non sanno che cos'è vmware e soprattutto non hanno neanche bene idea di come dove si applica e quindi vedremo così una piccola overview di vmware allora il das direct attached storage come vedi dalla foto questo è un server e questo è uno storage chiaramente più o meno grosso ma comunque è collegato direttamente con un cavo scasi per esempio che è un cavo particolare ad alte prestazioni si chiama das e ha un costo relativamente basso non ha particolari richieste di gestione il das viene utilizzato in molte infrastrutturetti è un'unità di archiviazione e das più grandi possono ospitare più dischi in un unico contenitore quindi un unico storage come vedi qui dalla foto tuttavia per alcune applicazioni aziendali che richiedono maggiore flessibilità e condivisione dei dati tra team la capacità del das di crescere e scalare è limitata soprattutto se si prevede di assistere a notevole crescita aziendale in breve periodo di tempo di tempo il lo scenario del miglior uso del das è per le piccole imprese che hanno bisogno di condividere i dati solo a livello locale hanno un budget definito e non di crescita con cui lavorare e hanno poco nessun supporto it e per mantenere un sistema complesso e per esempio ti do anche un altro esempio uno scenario peggiore il das non è una buona scelta per le aziende che crescono rapidamente hanno bisogno di scalare rapidamente hanno bisogno di condividere a distanza e collaborare o supportare molti utenti di sistemi e attività contemporanee ecco il nas lo trovi anche su per esempio su amazon scrivi qnap e ti appare questo piccolo uno per esempio può questo di nas con uno due o più dischi solitamente il nas è collegato a uno switch si può alcuni quelli nuovi insomma da anni si possono anche collegare tramite il cloud e raggiungibili dal cloud lo puoi usare anche a casa per esempio se hai film o musica no li metti sul nas poi nella li puoi ricevere puoi prendere i dati dalla rete locale di casa e quindi è un sistema semplice chi vi azione collegata alla rete offre il servizio di file dedicato alla condivisione attraverso la rete aumenta le prestazioni la fede l'affidabilità con funzionalità come il raid è un'unità sostituibile progettate per carichi di lavoro multi unità più elevati l'archiviazione nas è anche una buona soluzione per consolidare i sistemi di archiviazione da das inoltre per avere un sistema di archiviazione condiviso centralizzato farà risparmiare denari a denaro a lungo termine eliminerà la confusione e aumenterà la fidabilità in caso di guasto del sistema o interruzioni il nas è noto come per la scelta delle migliore per le pmi piccole e medie imprese scenario del caso di un uso migliore del nas è perfetto per le pmi e le organizzazioni che necessitano un sistema di archiviazione flessibile affidabile e con una manutenzione minima che possa scalare rapidamente secondo le necessità per accogliere nuovi utenti o dati in crescita il peggiore scenario i dispositivi di classe server possono presso le organizzazioni aziendali che devono trasferire dati a livello di blocco supportati da una connessione fiber channel potrebbero scoprire che il nas non è in grado di fornire tutto ciò e che è necessario i problemi massimi di trasferimento dei dati potrebbero essere un problema del nas e infine abbiamo il sun ecco qui la struttura diventa più complessa storage area network vediamo un attimo di che di che si tratta allora intanto andiamo dalla nostra parte cioè il network se hai visto c'è il video sull'ethernet channel per l'aggregazione delle porte e si usa per esempio sul nas qui hai tutti questi storage che c'è tutti i cavi di rete quindi te fai uno in questo caso sarebbe un pipe un grosso pipe quindi un grosso canale di quattro porte e le aggreghino quindi hai una fibra ottica a un giga oppure a 10 giga 40 giga 100 giga e li crei e aggreghi le porte e ovviamente hai più potenza dalla dallo storage verso lo switch e poi dello switch verso il il server che in questo caso è l'host poi vediamo come si fa con questi server che cosa che cosa ci si può fare tieni presente una cosa poi vediamo un attimo una piccola descrizione anche del sun tieni presente che e questo è un'anticipazione perché dopo parlerò del vmware ti ripresenta che vmware sxi è un sistema operativo leggerissimo che si installa sull'host quindi in questo server e il sistema operativo o i sistemi operativi quindi tecnicamente tanto per farti capire quando ti metti windows server e c'hai windows server con il servizio server web il dns l'acti directory eccetera 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 solitamente ogni servizio dovrebbe avere una macchina dedicata quindi se hai il server web hai solo il servizio web se hai il server dns fa soltanto dns dhcp solitamente vanno insieme se il server dhc directory è dedicato solo all'acti directory così via quindi macchine virtuali ne avresti veramente tante le macchine virtuali con un'infrastruttura del genere le puoi installare sia sul l'host quindi sui disc dedicati oppure qui nello storage che questo dipende da te dalle esigenze perché se lo installi nello storage hai bisogno di storage potenti e anche fa in questo caso fibra quindi connessione abbastanza se non direi più che abbastanza della molto veloci perché altrimenti i dati a caricare ci danno anni e anni insomma un esempio modo di dire e ovviamente se lo metti sullo storage puoi spostare le macchine virtuali tra i dischi con v motion eccetera eccetera insomma di cose ne puoi fare diverse questo dipende dal design comunque il sun è una rete di archiviazione è un sistema di archiviazione dedicato ad altre prestazioni che trasferisce i dati a livello di blocco tra server e dispositivi di archiviazione la sun viene generalmente usata utilizzata nei data center nelle aziende o negli ambienti di elaborazione virtuale offre la velocità del das con la condivisione la flessibilità e l'affidabilità del nas lo storage sun è un'opzione molto sofisticata pensata per supportare applicazioni complesse e mission critical lo scenario migliore nell'utilizzo del sun è la soluzione per la condivisione di dati a livello di blocco di file o applicazioni mission critical dei data center e nelle organizzazioni aziendali di grandi dimensioni lo scenario peggiore può essere un investimento significativo ed è una soluzione sofisticata che in genere è riservata alle esigenze di elaborazione su larga scala un'organizzazione di piccole e medie dimensioni con budget limitate e poche risorse o personali it probabilmente non avrebbe bisogno di un sun no ci vuole ci vuole il reparto it che possa gestire e mantenere una struttura sun allora eccolo qua qui abbiamo vmware che praticamente vedi qui c'è l'host quindi i server quindi abbiamo tre con dentro vmware x i x i x i e che a sua volta è collegato al sun quindi allo storage sopra quindi livello successivo al vmware ci sono le macchine virtuali quindi le vm che sono contenute nello storage poi con un programma con un client che è chiamato visvia ti colleghi e appare dopo ti faccio vedere come appare appare un menu che vedi tutte le macchine virtuali alle quali puoi puoi fare il login e gestirle e altre funzioni chiaramente le puoi gestire anche con l'rdp quindi remote desktop il vsphere e il vcenter il vcenter perché ti ha questi host con le macchine virtuali ti puoi collegare singolarmente oppure hai il vcenter che è un altro serverino dedicato dove raggruppa tutti questi host e queste macchine virtuali li raggruppa dentro dentro a questo vcenter così dentro un'unica macchina così te le vedi da un posto centralizzato ed ecco come si presenta si presenta in questo momento qui quindi te quando ora questo lo apre dal web però è uguale insomma per farti vedere qui sulla sinistra di tutte le macchine vedi DC, DC, Domain Controller poi quest'altra macchina virtuale W10 sarà Windows 10 Backup Server, DC, un altro Domain Controller VC, SA che non ho idea poi qui c'è lo storage e il network in questo caso per esempio te vuoi gestire la macchina DC2 clicchi e vai però qui poi dallo storage per esempio qui si vede dov'è ora qui non si vede in questo particolare screenshot però vedi dov'è la location del disco su quale storage l'hai messa questa macchina perchè qui lo trovo dietro sulla slide perchè poi te vedi da lì in che posizione è dello storage quindi vedi che lo storage è l'uno, il due, il tre, il quattro perchè nella vita reale qui ci sono numerini che ti indicano lo storage e dov'è così te come sistemista vedi e capisci dov'è questa macchina perchè non è detto che altrimenti che sia qui non lo sai se non ti viene indicato dov'è te sai solo che è uno di questi storage e solitamente di dischi ce n'è veramente tanti e quindi questo è VMware SXI che non è lo stesso cioè il principio di funzionamento è lo stesso quello di VMware Workstation Professional per esempio che alcuni utenti del gruppo di Telegram hanno installato per GNS3 il funzionamento il concetto è lo stesso però qui è un po' più a larga scala il come tecnico di rete la parte che ti interessa a te è questa è perchè devi collegare queste porte e sono in trunk sono in trunk perchè ora ti faccio vedere prendo un attimo vedere un attimo questa cosa qui che è il v switch virtual switch eccolo qua vedi che te come network no ma il system administrator si lui da queste porte che sono tutte in trunk lui le vede in questo modo qua quindi poi lui ti dirà che per esempio questa VLAN ID non c'è il numero della VLAN però qui ci sarà per esempio VLAN ID 20 quindi VLAN 20 VLAN 30 VLAN 700 VLAN 600 eccetera eccetera e tutte queste VLAN passeranno poi su quel trunk e te da network amministrator dovrai farle passare oppure non farle passare per il momento è tutto qui ti ringrazio aver guardato questo video e al prossimo prima video Grazie.